we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video allora io penso di giocarcela in questo modo è ancora a falegnameria lei e io la spiaggia ma mi scusi un attimo ma se tipo lei va dal lato opposto al mio poi ci ritroviamo in aria e no è peggio perché sprecchiamo il doppio dei materiali se lei riesce ad andare full questo è un modo veramente super fast per andare subito full in teoria non dovrebbe esserci nessuno che scassarmi arriva gente da lei arriva gente da lei 11 come arriva uno da me si si lo vedo lo vedo lo vedi in aria giuro 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 andava verso la spiaggetta era uno lei farmi mi raccomando come un drago io sono già a 500 di pietra diciamo che una sky la puoi vincere se non si accorgono anche con i pesci no ne ho due addosso ce la fa per fortuna che questo c'è uno stun addosso che veramente è pecora se se li fa possiamo partire con la sky già fatto già fatto bravo pizza sono delle sciocche buone ok basta così farmare partire mi sa che prendo della benzina a tirare dall'alto sì 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 è una buona idea anche quella non so devo capire ancora qual è la chiave della della vittoria la chiave della vittoria la cosa più bella è che quando ti fanno cadere gli sbatti giù un headshot in caduta col cecchino adesso dobbiamo arrivare in safe e quando siamo pronti e ce la sentiamo si parte con la sky ah non ho il pre edit delle build attivo io non posso editarle è quella stessa cosa che è mio non è stato un problema andiamo a prendere il cecchino dal tizio che ne da due io mi faccio qualcosa qua in sede più oh c'è il bombardone aspetta bello quello dove killarselo abbiamo un minuto e 40 per partire con la sky e se sei pronto partiamo e io ci sono ok prendo il veicolo andiamo occhio che non ci passano una contro sky base e non so e beh noi le stiamo facendo la roba della tastiera un attimo bello 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 spaccal muro spaccal muro spaccal muro vieni 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 ma non mi fa salire ho capito ma ce la fa o non ce la fa ma è pazzo ma come mi fa salire vada 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 pensavo di andare a prendere i cecchini a blughiere salire dobbiamo salire cioè ormai è ora qua siamo alla fine ho capito ma senza cecchini non serve un c***o se saliamo dal k2 che già un punto alto elevato sgamissimo come fai sopra sgamo il problema adesso partiamo da qua non ti preoccupare io prenderei il cecchino dal tizio la sopra ma chi è il tizio la sopra quello che c'è sopra la collina la in alto vende un cecchino vende due mi sembra e compro io ma lei quant'ha io sono sempre full di gold pizzi vieni circa quanti 10.000 quindi spende lei offre lei ora io poi allora cecchino uno e però dovrei lasciare l'rpg io deve lasciare il pompa pizze ma quanti cecchini ho comprato porco c***o allora quanti mezzo a due shock come andiamo così qui è sgamo no stiamo andando contro la safe e poi rientriamo ho capito ma provo a monitorare un attimo io non vedo nessuno però mi puzza ma guarda dove la sto buildando ma non abbiamo nulla per curarci è vero io sono io mi sa che no non ci muori non ci muori evitare una shock va bene tanto arrivo lì velocemente io sono safe adesso eh è arrivare un erro giusto per evitare di prendere troppo danno ma che c***o va metta la monster triangolo triangolo tutte le monster leggermente in ritardo come è leggermente in ritardo arrivo 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 leggermente in ritardo pizze arrivo non ho più buildato come non ho più buildato non lo so perché sono ancora messo bene bene pizze bene pizze la rifacciamo la rifacciamo si può fare si può fare si può fare eh si 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 no no si deve fare mi resti pizze la prego sono due di vita uno di vita oh mio dio allora pizze 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 mi dica quanto mazza hai 8 8 8 parti 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 un attimo un attimo la facciamo tiri tutto tiri tutto secondo me conviene tenerle mette che poi siamo incontro la safe tenga 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 la seguo la seguo vado io vado io mi fido io mi fido di lei è una c***o è una gran cagata questa pizze questa è una gran cagata ma di quelle forti proprio perché non lo so la sento la sento brutta la sento eh si sgamano sto cercando di salire il più a bordo safe possibile secondo me questa qua è proprio sgamissimo pizze così tanto andiamo giù ma la faccia più laterale allora andiamo laterale qua c'è da stare in copertura ma è se la potenzio tutta la scalinata no no non consumi materiali pizze se poi non ci bastano no ha ragione però abbiamo bouncer è tutto per scendere eventualmente momentaneamente le bouncer le aleio ne ho lanciate tre e sono atterrate nel momento in cui sono andato per terra no no mi f***o ma ancora ma perché ero bida ma che c***o fa io ho un sacco di patate incredibile no non si può fare la skyway io ho anche affidato tutte le mie risorse ho detto dai ce la farà non riesco ma che c***o fa ma devi inquadrare il terreno c'è buildato solo il gioco la rifacciamo ce la facciamo ce la facciamo ce la facciamo eh venga prenda le cose ok ripartiamo io a sto giro dio buono basta non mi faccio degli scherzi ok vada su partiamo da qua vai ha raggiunto il massimo al testa vero oh sono tutto cosa e ci hanno sparato sulla scala sulla scala non ce l'ha sparato ha sparato lei a me no ok mi puoi dare una 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 shock non ne ho più ho solo bouncer venga una pizzo metto la bouncer lo metto con vivo bravo pizzo adesso mi ce la facciamo ce la facciamo ce la facciamo oh ci hanno scamato ci hanno scamato tantissimo sono brutta è brutta è brutta è brutta è bruttissima è bruttissima mi sta buttando fuori safe non capisco dove stiamo andando eh no dobbiamo andare via via perché te ne abbiamo dietro no no è bruttissima questa cosa mi guardi dietro per favore va bene a me sembra tutto ci hanno puliti dietro no ci hanno puliti sono lei da su vai 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 ma noi c***o li abbiamo li abbiamo proprio sulla adesso questi ci prendono ci prendono eh come ci prendono eh 38 di vita pizza vado o adesso adesso pizza 24 ok vado vado qui dietro la roccia eh per forza non c'è più spazio non c'è più spazio non c'è più spazio siamo chiusi 7-4 team secondo lei non c'è mi segga mi segga aspetta che c'ho le splashine non ce la facciamo a fare un'altra skybase vero quanti materiali ha ma un lama ma un lama ma come un lama si venga da me venga da me ma oh mio dio prenda questo lama ci sono delle bouncer una bouncer per favore tre bouncer buono 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 venga sono molto esterno eh eh la vedo la vedo io sono molto preoccupato perchè eh non lo so ci fanno c***o sono tutto sono vivo eh sono vivo non ci credo me l'ha distrutto sotto venga qua sono qua sono qua sono qua vado pizza ci sperano sempre mi molli mi molli mi molli arrivano con le shock arrivano con le shock è tutto suo pizza da me l'altro sotto l'altro sotto uno v uno pizza uno v uno eh no secondo me sono sbomba sono sbomba davanti a lei mi faccia fare una cosa sono tranquillissimo uuuu eccola uuuu ci pizza no 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 Easy